E direi che siamo pronti per pullare. Io comincerei dalla free, poi ho praticamente questi 50 ticket che andrò a buttare perché comunque li vado a buttare, però cominciamo dalla free multi, poi tiriamo 25 ticket, altra multi, 25 ticket e poi spendiamo tutte le altre gemme rimanenti vedendo effettivamente che cosa troviamo. Free multi, bene, bene, free multi con orbo dorata mi piace, mi piace, mi piace, free multi con orbo dorata mi piace, mi piace, mi piace. Già se mi uscisse anche la LD dalla free mi andrebbe bene. Ripeto, mi andrebbe bene. Sicuramente non esce la LD, mi uscirà una X, possibilmente, però va bene, va bene. Ma se è la X di Hardin mi andrebbe bene lo stesso. LD dalla free. Bene, 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 LD dalla free. Ottimo, ottimo. La host di Hardin funziona. Funziona. E il metodo giappino funziona anche nel global. Bene, continuiamo. Allora, 25 ticket. Vediamo un po'. Vediamo un po' questi 25 ticket. Il sorrisetto diabolico. Andiamo con questi 25 ticket. Magari, se mi uscisse la BT con i ticket. Oggi potremmo fare veramente festa. A parte che mi dovrei nascondere, penso, per un mesetto. Dovrei nascondermi per un mesetto circa. Se mi esce veramente la BT dei ticket. Però già la LD dalla free. Ottimo. Ottimo. Manco con Noctis sono stato così fortunato. A 25 ci fermiamo e facciamo la multi. Con 200 ticket inclusa la BT. Dopo addirittura 30 ticket. Vabbè, no, BT su Noctis non l'ho fatto in realtà, perché mi è uscito tutto il kit completo a 280 G-Token, se non erro. Se non ricordo male, a 280 mi sono fermato io. Quindi non mi è andata malissimo. Non so se la host forse è troppo alta. A me piace tantissimo l'host, quindi anche se l'ha sentito un po' più alta a me dispiace, ma per me questa host mi piace troppo. Non ci posso fare nulla, anche se si sente un po' più alta. Allora, non è vero che non possono esistere, non possono coesistere il PD-BT, perché comunque in Noctis sono arrivato a 400 G-Token, eh? Quindi non è che dici ho speso poco. Cioè, 400 G-Token ho buttato. Allora, 25esimo ticket. Attenzione, orb dorata. Attenzione. Potrebbe essere la ex. Se già fosse la ex di Ardyn, potrei fermarmi qui in realtà. Pulaone, pulaone, pulaone. Eccola. Eccola. Potrei anche fermarmi qui in realtà. Potrei fermarmi qui. E pullare la BT di Ardyn su un altro banner. Eccola.